buongiorno amici di tutto motori ben ritrovati da planet auto puntata molto importante in quanto ci avviciniamo alla fine di questo 2023 e come sapete la parte finale dell'anno è quella sicuramente più interessante per quanto riguarda le formule di acquisto degli autoveicoli sapendo appunto che il mercato funziona in questo senso ci siamo diciamo adeguati con un portafoglio ordini molto importante durante il periodo estivo proprio per avere per avere il prodotto pronto a disposizione nel momento appunto delle migliori promozioni dell'anno quindi diciamo ci troviamo nelle migliori condizioni quindi abbiamo sia le vetture in pronta consegna e sia le migliori promozioni direi da anni a questa parte nello specifico parlando di di jeep diciamo anche l'ultima arrivata jeep avenger che come sapete già una best seller è già auto dell'anno 2023 abbiamo le prime vetture in pronta consegna sia della motorizzazione benzina sia della motorizzazione full electric piccolo focus tecnico su avenger ricordo che appunto oltre alla motorizzazione benzina a cambio manuale e alla motorizzazione full electric sta per arrivare anche l'ibrida che si inserirà appunto a metà tra le due già a disposizione sarà sicuramente molto interessante quindi abbiamo una vettura con più sprint più coppia ed il cambio automatico nonché consumi lievemente inferiori a quelli della versione a benzina la vettura appunto arriverà nel prossimo periodo nei prossimi giorni e riguardo alle promozioni ecco specifico che non si parla solo di promozioni di acquisto quindi riguardo alle promozioni di acquisto abbiamo sia vetture nuove in pronta consegna con sconti appunto denominati premi stock cioè sconti sulle vetture in pronta consegna che vanno 5 6 8 fino a 10 mila euro su determinate motorizzazioni abbiamo delle vetture chilometri zero e delle vetture aziendali un po su tutta la gamma di modelli ma le promozioni riguardano anche le formule di acquisto quindi abbiamo possibilità di noleggi anche a breve termine 12 mesi leasing o finanziamenti con tassi molto agevolati ad esempio 2 90 3 90 addirittura su modelli top di gamma come possono essere il wrangler a mio fianco o la jeep grancero che abbiamo anche la famosa operazione jeep free che permette a tasso zero di pagare metà veicolo e l'altra metà dopo due anni chiaramente come capite la carne al fuoco sia come prodotti che come promozioni è davvero troppa per essere condensata però ecco ricordo fino alla fine dell'anno abbiamo davvero condizioni eccezionali su tutta la gamma faremo anche alcune domeniche di apertura naturalmente gamma che è anche tutta disponibile per i test drive su tutte le motorizzazioni quindi vi aspettiamo un grazie ancora da stefano e da tutto lo staff planet auto ciao grazie a tutti grazie a tutti